Tra le opere più importanti che la Galleria Maurizio Nobile esporrà e presenterà la prossima edizione di Biaf vi è questo splendida tela dipinta da Francesco Aiaz nel 1838 per il conte milanese Luigi Belgioioso. La tela raffigura un episodio ispirato alla storia dell'antica Repubblica di Venezia e in particolare il doge Francesco Foscari che è obbligato dai tre membri del Consiglio dei Dieci a rinunciare al proprio dogato. Nel quadro improntato da una solene commossa grandiosità scenica coesistono una dettagliata evocazione del suntoso interno di una delle sale del Palazzo Ducale di Venezia e un appassionato e partecipe trascrizione delle reazioni emotive dei personaggi che lo abitano dal dolore compunto del doge, della dogaressa e della nuora allo spavento dei piccoli nipoti allo sdegno altero del procuratore Giacomo Loredan raffigurato all'estrema sinistra. Grazie a tutti!